Questo è il giornale dei giorni La settimana scorsa alcun cittadino e il papà di camicia Salutino per la stampa Quando dire che mi ha detto Andate a Isola di Orcas E' scettacolare E' vero che deve venire Ma la cittadino C'è un'altra cittadina E' 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 un'altra cittadina Grazie a tutti.